Carcere duro da rivedere per l'ex numero uno della mafia grigentina Giuseppe Falsone. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato Campobellese rappresentata dall'avvocato Giovanni Castronovo. Il regime del 41 bis è stato imposto all'ex latitante subito dopo il suo arresto in Francia nel 2010 dall'allora ministro della giustizia Angelino Alfano. L'avvocato Castronovo ha denunciato un vizio di forma in quanto il documento della richiesta di carcere duro sarebbe firmato dal sottosegretario Giacomo Caliendo e non direttamente dal guardia da sigilli. La difesa di Falsone inoltre ha scritto nella richiesta di ricorso che l'imputato non avrebbe alcuna intenzione di comunicare col mondo esterno e che avrebbe espresso la volontà di rescindere ogni legame con la sua terra di origine. La procura generale della Suprema Corte aveva chiesto di rendere inammissibile il ricorso. Prima era stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma a rigettare l'istanza. La richiesta dell'avvocato Castronovo, che si concentra su elementi di legittimità, verrà discussa nelle prossime settimane dagli ermellini. Falsone, dopo essere stato recluso nel carcere di Opera a Milano, adesso si trova nel penitenziario di massima sicurezza di Novara, lo stesso in cui è in isolamento anche Bernardo Provenzano. Fu proprio il padrino di Corleone, secondo le risultanze investigative di questi anni, ad incoronare Falsone, capo della mafia grigentina, defenestrando il predecessore Maurizio di Gatti, favorito solo da Nino Giuffré. Nei pizzini dell'anziano boss il campo bellese è indicato con il numero 28. Nella perquisizione del covo di Contrada Montagna dei Cavalli, dove si nascondeva Provenzano, furono trovate le lettere che per stile contenuto sono state attribuite a Falsone.